Un bronzo strameritato e conquistato da campione, dal grande campione quale Antonio Esposito che si è conquistato a Tel Aviv la prima medaglia tra i senior, dopo una carriera junior ad altissimo livello mondiale. Beh, le emozioni in quel momento per la testa ti passano tante cose, tanti sacrifici, rinunce, allenamenti, davvero intensissimi, con un solo obiettivo, arrivare a fare una medaglia agli europei. Io veramente ero partito per vincere, ma poi è arrivato il bronzo e per me è la prima medaglia tra i grandi e spero che sicuramente, anzi sicuramente ne arriveranno altre perché adesso ho capito che davvero posso fare grandi cose. Sì, c'è un po' di delusione perché in semifinale ho beccato un avversario che avevo battuto due volte, negli anni precedenti e adesso ci ho perso. Ho peccato un po' di ansia perché mi era calata un po' di tensione visto che negli incontri precedenti avevo battuto due avversari fortissimi. In semifinale, beccando l'avversario che avevo battuto già due volte, ho peccato anche un po' di presunzione, sono sincero, l'ho sottovalutato un po' e questa l'ho pagata cara, non ho potuto giocarmi l'incontro per il titolo. Sì, ero oltre molto ansioso perché avevo paura di perdere quella medaglia, ma ero molto arrabbiato per l'incontro che avevo appena finito alla semifinale, quindi sono salito sul tatami determinato perché volevo quella medaglia e basta.